Tondeo e Qua First Parigi presentano Holistic Cures Nuova tecnologia di condizionamento e asciugatura Condizionare e asciugare i capelli in un unico prodotto Definire Holistic Cures un fond di alta qualità è corretto, ma è solo una mezza verità Perché questo innovativo asciugacapelli contiene anche un vero e proprio sistema di cura dei capelli Il segreto sta in due minerali vulcanici giapponesi che vengono lavorati nell'elemento riscaldante Uno dei due minerali viene estratto da un vulcano in Giappone L'altro minerale proviene dal deposito sottomarino dell'attività vulcanica Questi due minerali emettono una luce unica con una frequenza invisibile all'occhio umano Entrambi hanno effetti diversi a seconda della temperatura impostata per il phon La pietra rossa, il minerale proveniente dal vulcano giapponese, è più efficace alle alte temperature L'argilla blu ha temperature più basse L'asciugacapelli di alta gamma Holistic Cures combina gli effetti di entrambi i minerali in un nuovo tipo di tecnologia di cura e asciugatura La pietra rossa sviluppa meglio il suo effetto ad alte temperature La luce vibra in una sequenza terahertz e mette in moto le proteine del capello Le molecole d'acqua in eccesso lasciano i capelli Grazie a questa delicata asciugatura dall'interno, il tempo di asciugatura si riduce di circa il 40% Allo stesso tempo si formano nuove molecole che preservano il naturale equilibrio di idratazione dei capelli La pietra blu reagisce all'umidità dell'ambiente e ionizza le molecole d'acqua che vengono trasportate in profondità nei capelli In questo modo si evita che i capelli si secchino e si conferisce loro una particolare morbidezza e lucentezza La modalità Cure emulsiona lo strato cuticolare del capello con l'aiuto della luce a frequenza terahertz e di un vento leggero La cuticola si chiude e protegge i capelli dagli agenti esterni Gli effetti collaterali indesiderati, come l'effetto crespo, la fragilità e le doppie punte, vengono eliminati I capelli acquistano elasticità e lucentezza Holistic Cures